L'esercito imperiale guidato da Paglio II nelle sacre mani della contrada di San Giulio prenderà corpo alle 2 del pomeriggio laddove c'è il mercato in piazza Visconte Cerini al suono delle chiarine ed al rullo dei tamburi passata mezz'ora il corteo inizierà il suo viaggio all'interno delle otto contrade San Bernardo, San Carlo, San Giovanni, Santa Liberata, San Giorgio, San Simeone, Santo Stefano e San Giulio Percorse le vie dell'urbe, attraversato il fiume Lona, salita la costa lunga porrà dimora all'interno del comunale Maximum dove romani e barbari incroceranno le spade per dar vita ad una spettacolare battaglia Alcun sesterzio anche qui sarà dovuto! L'ingresso è gratuito! Giunta al termine la disputa tra le due milizie, la Corsa delle Bighe assegnerà il terzo titolo del Paglio della Castellanzia Che sia buon tempo per tutti!